Quest'anno, anche quest'anno, alla fine della fiera di Per Noi Sposi, ci sarà una crociera, come sempre, per chiudere, per sancire alla fine di queste tre giorni, interessante di Per Noi Sposi. E fra i partecipanti, soprattutto fra i fautori di questa crociera, c'è questo stand che è Paesaggi Misteriosi. Allora, Paesaggi Misteriosi, oltre naturalmente alle crociere, offre tantissime altre opportunità di viaggio. Assolutamente sì, per gli sposi abbiamo diverse offerte, sono sempre più gettonati le destinazioni tropicali, i mari tropicali, i Caraibi, sta andando moltissimo alla Polinesia, anche se è un viaggio abbastanza importante dal punto di vista economico. e poi ci sono sempre le crociere che comunque, abbinate anche a dei soggiorni o dei tour, richiamano sempre l'attenzione dei novelli sposi. Ma e i viaggi nelle grandi capitali invece? Ma con le opportunità di voli che ci sono sempre più frequenti, ormai le capitali sono più una vacanza da, non dico morti e fuggi, però 4-5 giorni si riesce un po' a fare la visita delle grandi capitali. Parliamo di Praga, Budapest, Vienna, ovviamente Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, magari hanno necessità di avere qualche giorno in più. Però con questi voli, anche con i low cost che ci sono, si riesce a fare un fine settimana tranquillamente nelle capitali europee, quindi non è meta da viaggio di nozza. Voi avete dei pacchetti che già naturalmente proponete a tutti gli sposi? Sì, noi proponiamo soprattutto delle destinazioni come Thailandia, Messico, New York, Caraibi e abbiamo pubblicizzato anche qui alcune offerte con delle facilitazioni per chi è venuto a trovarci qua in fiera. La famosa lista anche da voi? Assolutamente, sta prendendo sempre più piede, anche perché oggi le coppie arrivano al matrimonio che magari hanno qualche anno di convivenza, per cui hanno già la casa completata, sia negli arredi, sia in tutti gli accessori e quindi alla fine dedicano lo spazio della lista nozze al viaggio di nozze, così riescono magari a coronare il loro sogno e fare un viaggio veramente importante. Ok, allora ricordiamo Paisaggi Misteriosi, si trova dove? Via Ettore Lombardo-Pellegrino, 96 a Messina. E grazie per il viaggio. Grazie a voi.